Dall'esame verso una condizione di asfissia meccanica violenta secondaria ad una compressione toracica. È stata una morte violenta per asfissia, quella di Antonio Lizzi, 69 anni, ex operaio della SIV in pensione trovato senza vita sul pavimento dell'ingresso della sua abitazione di Monte Dorisio domenica sera. L'autopsia condotta nell'obitorio di Chieti dall'anatomo patologo dell'asleteatina Pietro Falco, durata un paio d'ore, toglie ogni dubbio rispetto all'ipotesi avanzata durante la prima ricognizione cadaverica la sera del delitto, anche se, precise il medico legale, non ci sono segni evidenti di colluttazione. Se non, se escludiamo il fatto che la vittima aveva queste plurifratture sul torace, quindi lascia presumere che l'aggressore gli ha compresso il torace al punto da fratturargli numerose costole e determinarne l'asfissia meccanica violenta. Dall'esame autoptico sono emersi dati importanti per la procura di Vasto che procede contro ignoti per omicidio. Al vaglio c'è anche l'ipotesi di una rapina simulata perché il cadavere è stato ritrovato legato con delle fascette elettriche sui polsi e sulle caviglie. Durante l'autopsia sono stati prelevati dei campioni organici. L'esame del DNA dirà se possano essere dell'assassino. I prelevi sono stati fatti ovviamente. Adesso bisogna vedere a chi appartiene. Se c'è potrebbe darsi che magari non c'è nulla oppure potrebbe darsi che verrà fuori del DNA che non appartiene alla vittima. Prematuro, dice Falco, stabilire l'orario della morte. L'ipotesi è che Lizzi sia deceduto diverse ore prima rispetto al ritrovamento del cadavere. Dobbiamo integrare i dati che sono emersi con il sopralluogo rispetto a quelli che adesso abbiamo dall'esame necroscopico esterno ed interno. Difficile pensare a chi possa aver commesso un gesto così efferato, ha dichiarato a Zonalocale.it il sindaco di Montodorisio, Saverio Di Giacomo. Antonio Lizzi in passato aveva avuto problemi psichici, tanto da essere sottoposto a TSO. Lizzi, vedovo, viveva da solo. I due figli non abitavano con lui. La casa è posta sotto sequestro. Presto arriveranno i RIS, il reparto scientifico dei carabinieri, alla ricerca di ulteriori indizi che possano mettere gli inquirenti sulle tracce dell'assassino.